Shwe shwe ragazzi, beh veloce veloce sto video, buongiorno intanto, primo agosto, inizia così un mese importante del mercato della Juve, visto che non è successo nulla finora, ci aspettiamo tanto adesso, tanto, ci aspettiamo qualche movimento, ecco non è che... Per il primo colpo forse, il primo colpo gobbo, lo abbiamo piazzato, Caio Giorgio è vicino alla Juventus, strano no, l'ultimo video era, insomma, c'era, no addio è andato, non si fa, bla bla bla, e invece, e invece avete visto che è vicino alla Juventus, accordo ad un passo, già in settimane il ragazzo potrebbe arrivare a Torino, sostenere le visite mediche e fare la quarta punta, occuperà lo slot extracomunitario, E poi andremo a vedere le questioni liste, come che cosa succederà, qualcosa uscirà e salterà fuori Ora ragazzi, ragazzuoli, prima di iniziare ovviamente vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e scaricate la PuanFootball, trovate il link in descrizione, migliore app per rimanere aggiornati sul calcio Piccola premessa e tiratina d'orecchie a qualche intelligentone che scrive nei commenti post partite, scrive anche un po' in maniera piccata facendo il figo sui giovani, sul discorso che ho fatto sui giovani Io intanto ieri ho analizzato la prestazione e non la prospettiva che offre ogni singolo giovane, per cui ho elogiato Sule e Ranocchia e non ho elogiato tantissimo per esempio Fagioli Qualcuno deve essersi risentito di questo, io vi dico attenzione, io quei giovani ci vado molto coi piedi di piombo, non mi esalto, mi piace la nucchia per esempio, credo che sia di prospettiva Però attenzione, potrebbe anche non esplodere questo ragazzo, cioè i giovani sono delicati, cioè è un po' come, che ne so, la fecondazione delle rane, sparano 10 milioni di girini Tra cui 10 milioni, 3 o 4 saltano fuori, idem sono i giovani, di nomi nei precampionati, ne vediamo a Iosa e poi si crea questo hype infernale Alla fine deludono le aspettative, per cui andiamoci piano con le aspettative e aspettiamoli perché se sono rose fioriranno E questa è sempre la mia filosofia, io ricordo il periodo di Giovinco, ah Giovinco il nuovo del Piero, la formica atomica Cosa non era Sebastian Giovinco, poi l'abbiamo visto, un cammino abbastanza deludente alla Juventus Ieri ho visto che Romeo ha fatto l'esempio di Fausto Rossi, che è un altro di tanti Masi, ma io vi ricordo anche Blanco che fece un gol da centrocampo contro il Barcellona Blanco, che cos'era? Il nuovo Yapstam, eppure dove cazzo è finito Blanco non lo sappiamo neanche noi Per cui piedi di piombo e keep calm Però voglio elogiare invece la mia Juventus e la società Juventus per questa grande operazione Caio Giorgio, per come sta arrivando e sta maturando Perché hanno fatto veramente un gran lavoro, Cherubini è il buon Arriva Bene, il buon Nedved Tutta l'area sportiva, complimenti all'area sportiva per questo colpo Perché vada come vada, non ci hai rimesso un cazzo e potresti rivenderti questo giovane Che se ti delude dici ah non è da Juve me lo rivendo e riesco a farci un po' del grano Perché è un ingaggio basso, perché viene preso a pochi soldi Per cui plus valenza facile, mal che vada Questi sono i colpi migliori perché se ti rende fai il massimo, ottieni il massimo Se non ti rende, tutto sommato riesci a piazzarlo in qualche società E così E così quindi complimenti a Cherubini e Paratice Perché tanto per il ruolo che andrà a ricoprire in rosa sto ragazzo È la quarta punta, è il quarto attaccante Quindi non è un ruolo centrale su cui deve poggiare e basarsi tutto il progetto Juve No, è un ruolo un po' marginale Che verrà insomma svolto da questo ragazzo Speriamo in maniera diligente e mi auguro che questo ragazzo possa esplodere Però attualmente credo che sia un'operazione molto intelligente Come verrà questa operazione? 1,5 milioni subito 1,5 milioni nel 2022 E con diritto, viene riconosciuto dal Santos sulla rivendita un 5% Quindi questa è l'operazione dal punto di vista economico per il Santos Al ragazzo non so, non c'è ancora nulla legato alle cifre del ingaggio Ma quanto pare sarà abbastanza basso E non sarà così oneroso per le casse della Juventus Quindi la quarta punta è stata trovata dal punto di vista economico Poco da dire Avrei da ridire invece sulla narrativa giornalistica Perché Sky e Fabrizio Romano ahimè Ogni tanto anche i migliori sbagliano Antoppato sulla questione rinnovo automatico Praticamente l'ha saltato fuori Che un uomo, un buon uomo Vicino al Santos, vicino al boarding del Santos Si è saltato fuori e ha detto Ah attenzione Perché Caio George è in scadenza nel 2023 E non più nel 2021 Perché? Questo perché ha praticamente una sorta di rinnovo automatico Unilaterale Il suo contratto E per cui verrà rinnovato dal Santos Se la volete dovete cacciare fuori 15 milioni Questa è la notizia che era uscita Fabrizio Romano Vi ho fatto vedere il video la scorsa volta A me questa storia puzzava da 18.000 km L'ho scritto su Twitter Ho fatto il video E vi ho detto A me puzza questa roba Perché? Mi sembra il gioco delle tre carte La solita fregatura brasiliana Se veramente è così C'è da indagargli Perché intanto non è legale I contratti per i giovani Per i minorenni Sono massimo da 3 anni E non da 5 Neanche con le opzioni E quindi a me questa cosa puzzava Però insomma Siccome in Brasile Tutto è lecito Lato FIFA Visto che i cartellini Sono gestiti in maniera pietosa Da società di terze parti C'è il carrozzone famiglia Che va sfamato Dove c'è miseria E dove ci sono soldi Allo stesso tempo Perché il calcio dà soldi A queste famiglie Lì ovvio che ci sguazza Un sacco di gente Un sacco di approfittatori Per cui La situazione là È molto complicata In realtà Da gestire E quindi mi sono detto Ma se così È grave Però a me sembrava strano Perché la narrativa giornalistica Diceva questa cosa Ovvero Il presidente Aveva già detto Che avrebbe accettato L'offerta del Benfica 6 milioni Ora io mi dico Ma come fa un presidente A non sapere Che il giocatore Non è in scadenza È che 6 milioni È una quotazione È una quotazione Molto bassa Rispetto a quella Quotazione ideale Che insomma Si ipotizzava Per Caio e Giorgio In caso di non scadenza Perché la quotazione normale Era sui 15 milioni A quanto è stato detto Anche dal tipo Bene A 15 milioni Può partire Valutiamo quelle offerte là Perché non è in scadenza Lo stava vendendo A 6 milioni Al Benfica A me non risulta Questa cosa Poi Allenatore Che non lo convoca In Coppa E dice Ah ma Caio Giorgio Ha detto Che ci lascerà Dalla porta principale Che farà riconoscere Dei soldini Al Santos Eccetera Eccetera Non lo convoca Neanche per quella partita E già questo è un segnale Abbastanza forte Di quanto invece L'accordo con la Juventus C'era Era reale E lo si stava trovando A me è sembrato Solo un blef Ok Di questi qua Per cercare Di alzare Quella che era L'offerta economica Da parte della Juventus Il classico giochino Delle tre carte Noi siamo stati bravi A non cadere in questo tranello Poi trattare Ripeto Le società sudamericane È un gran bordello Ora Non vi so dire Questo ragazzo Diventerà un fenomeno L'abbiamo visto Al Santos Fa buone cose Deve migliorare Tecnicamente Magari è valido Va Insomma Rimodulato In Italia Sulle sue giocate Eccetera Dovrà Fare un po' di gavetta Ma siamo sicuri Che imparerà qualcosa E un po' di valore Gli verrà dato A sto giocatore Ora Non mi illudo Come ho detto prima Neanche per i giovani Perché Perché di giovani Dal Brasile All'Italia Ne abbiamo visto tanti E quanti poi Hanno fatto Il percorso più bello Il percorso migliore Io credo Io credo pochini Quindi bisogna andare Sempre coi piedi Di piombo Io non mi illudo Non mi gaso Mi gasa molto di più Locatelli In realtà Di Caglio e Giorgio Però posso dire Che è un'ultima operazione Dal punto di vista finanziario È un'ultima operazione Vedremo Se anche dal punto di vista Tecnico Porterà I suoi frutti Questo vi dico Questo è Analisi chiusa Fatta Spero che vi piaccia Ditemi la vostra opinione Sotto nei commenti Iscrivetevi al canale Sempre fino alla fine Forza Juve ragazzi Forza Juve